segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te le guarda mai la mattina le previsioni sai che sono quelli che la mattina si alza della prima cosa che fanno è guardare no oggettivamente no lo guardo le guardo un po per quando quando va a viaggio per esempio sono trovato a venezia con una nebbia allucinante un freddo terrificante mi ero svelata agli 5 per arrivarci e confesso io sono praticamente a stemmi mi sono fatto un grappino alle 10 di mattina per il freddo bello questo spazio intanto viene sempre fuori una piccola una piccola confessione però cari telespedatori non abbiamo